... Sì, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. E cosa è che il poporzù? Oh, te v' là! E che il poporzù? 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 Noia, 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 noia. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Oh, che ci darò, che ci darò, che si ma cioce gure, che si ma cioce gure, che ci sa cioce gure, che ci sa cioce fredda, oh che è? Grazie a tutti.